a partire ci sono un sacco di nostri aerei ok quello è morto, no, però inna ci sono due carri provo a spostartene uno eh aspetta che devo attaccare un video uh bomba della ossa, boom non è morto oh cazzo no eh ok sono in manovra per regare nella A c'è ancora gente nel fumo eh si un un coso, un si si è lì lo vedo, lo vedo spero di guardarlo bene spero di guardarlo bene siii bello boom ok ce n'è un altro credo però eh eh c'era un po' fumo non ho visto bene ah no ne hai fatti fuori due a posto ottimo, si eh beh grazie non mi da mento se ce n'erano due io non ho saputo dove fosse l'altro oh non si sta ancora ricampare giù fun giù giù non Grazie a tutti